Oh hey, sono Boxy e benvenuti in questo nuovo video. A quanto pare è stato un grandissimo ritorno. Ma non del tutto voluto. Lasciate che mi spieghi. Era da un po' di tempo che si parlava con Shuren di tornare a fare video. Tuttavia ero ancora molto titubante, non me la sentivo... Non volevo riprovarci, per paura di restarci male, sinceramente. Tuttavia l'altro giorno mi ritrovo a fare delle modifiche tramite gestione video. E siccome le mie doti informatiche sono pari a quelle di un pinguino morto, rendo pubblici tutti i video. Da qui, la tragedia. Io vado tranquillamente in bagno e sento più volte il telefono squillare. Una volta, due volte, tre volte, quattro, cinque, sedici volte. Corro a vedere cosa sia pensando di un'urgenza sul lavoro o qualcosa di grave e trovo tantissime notifiche da YouTube. Bentornato, che bello che hai riaperto il canale. Oh Gesù, io questa cosa non la sapevo, veramente. Se rendi pubblici dei video che non sono mai stati resi pubblici, appariranno come nuovi. Oh e vai, che bel ritorno con video quali il mio video modificato è prova 2. Yeee, evviva, yuppi. Ma va bene, il destino ha scelto così, quindi eccoci qua. In molti avete chiesto questo ritorno, quindi ora mi sento io di chiedere qualcosa a te. Commenta, non sparire o non essere un utente invisibile. In alternativa, il canale rischia nuovamente la chiusura. Questa nuova LNC si basa unicamente su di te, su ciò che vuoi e su ciò che vuoi fare. Infatti già da un paio di giorni ci stiamo divertendo su Discord insieme ad alcuni iscritti e nel caso volessi registrare qualcosa con noi, o semplicemente far due chiacchiere, leggi in descrizione per unirti. Cambiando invece completamente discorso, ho una confessione da farvi. Conoscete TheKiller99Ago? Ciao a tutti! Salve a tutti, io sono TheLongamer E TheKiller99Ago qui con voi sul canale di TheLoveGamer per i più appassionati TheLongamer, un mio fan che mi ha chiesto gentilmente se potevo partecipare ad un suo video ed eccomi qua per sponsorizzarlo. Ciao a tutti! Andiamo a piccare, a piccare, a piccare le... Ci facciamo una spada? E magari questa parte ve la taglio, dato che può essere noia. Rieccoci qui! Bella a tutti, amici del tubo! Io sono sempre... Killer99Ago e siamo qui oggi nel secondo episodio di Minecraft... Ebbene, questa persona sono io. È nato tutto per gioco, tra me e TheLongamer, così... non so, per farvi divertire. E sarebbe mia intenzione portare questo personaggio sul canale, rallegrando il tutto con videotroll o qualsiasi cosa mi passi in mente. Che ne pensi? Potrebbe farti divertire? Io ho già parlato fin troppo, quindi ti do un abbraccio e spero di ricevere presto una tua risposta nei commenti. Da Abbox è tutto, a Shgalalala! Grazie!